L'Ippodromo del Savio invita tutti alle corse per un fregosto scoppiettante all'insegna del divertimento e della solidarietà. Sette, gli appuntamenti agonistici, con prologo alle 21.10 e un intrigante prosieguo con affolate sfide di livello, contrassegnate da omogenità tecnica ed equilibrio tattico. Questo il menu in sintesi. L'apertura è inusuale rispetto alla consolidata tradizione cesenate e subito saranno gli inziani a scendere in pista per dare vita ad un'incerta corsa triste nazionale, quella, per intenderci, definita seconda triste che funge da spalla tecnica alla prova abbinata anche a quartè e quintè. Un miglio per undici con una vasta rosa di candidati al successo. Così si presenta il vernissal serale che offre evidenti chance in ottica podio al progredito Swami Gams, questa sera in versione Francesco Virzi, nonché al ben situato Turbine LP, partitore provetto gratificato da un comodo 1 sul cellino con la guida del talentuoso Marco Volpato. Il discorso vittoria fluttua tra le indubbie qualità di Irene Palle Bigi, con l'omonimo legati in sediolo, e la forma di poker face HBD, ennesima proposta di Viano Fierro, ospite stagionale al Savio ed autentica rivaliazione per capacità professionali ed atteggiamento improntato alla massima serietà e correttezza.